Che beh, guardate bene, sta per fare una manovra pazzesca. La corsia delle macchine è quella a destra, ed infatti molte di queste avanzano con calma. Ma il camion si sposta ad un tratto nell'altra corsia. E non solo, cerca di stare il più vicino possibile al muro di sinistra. E no, non è uscito pazzo, ma c'è un motivo per quello che sta facendo, e fra poco lo vedrete. Il camion avanza, con calma, e sempre attaccato al muro, finché non arriva davanti a un tunnel. Ed ora guardate cosa può fare grazie alla manovra di prima. Gira all'ultimo momento ed entra perfettamente nel buco. Cosa che non sarebbe riuscito a fare fosse rimasto nella corsia a destra. Davvero f***a.